La buona notizia è che sono calati sostanzialmente i valori di diossine furani, la brutta è che sono aumentate le concentrazioni di benzopirene, la più cancerogera fra le sostanze presenti nelle polveri che si formano in tutti i processi di combustione, e la fotografia del terzo monitoraggio effettuato nell'area industriale di Potenza, dove sorge il tanto discusso, stabilimento dell'ex Sider Potenza dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di Basilicata, un monitoraggio compiuto dal 3 dicembre al 3 gennaio scorso, un lasso di tempo durante il quale lo stabilimento ha osservato due periodi di fermo produttivo, un aspetto questo che in aggiunta alle migliorie impiantistiche effettuate prima della terza campagna di controlli potrebbe essere all'origine della progressiva diminuzione dei valori di diossine furani, microinquinanti altamente tossici. Quanto invece all'aumento dei flussi di benzopirene, esso potrebbe dipendere oltre che da effetti meteorologici, anche dal riscaldamento domestico e dal traffico veicolare che è maggiore in questi periodi invernali, e non solo, l'aumento dei flussi di deposizione di benzopirene potrebbe derivare da una molteplicità di altre fonti, ragion per cui, fa sapere l'ARPAB, servirebbe un monitoraggio che copra un arco temporale non inferiore ad un anno. Non solo, sarebbe opportuna anche l'installazione nel più breve tempo possibile di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera sul cammino dell'ex Ciderpotenza. Solo così si avrebbe un quadro costante della situazione.